Di una grande parte dei problemi che abbiamo ereditati, molti sono andati a soluzione, alcuni li lasceremo, li lascerò in eredità, come quello della piscina. Purtroppo questa questione che è ferma dal 2006 non ha trovato una soluzione e rimane una scatola e una funzione che deve trovare un progetto, un gestore e una riqualificazione della zona. Sul resto alcune cose sono partite non con i tempi previsti, il Parco Avventura ha finalmente ricevuto l'approvazione da parte della regione, contavamo di vederlo realizzato o avviato a realizzazione in questo ciclo amministrativo, i tempi si sono allungati, i lavori dovrebbero cominciare nella primavera del prossimo anno. Stesso ragionamento è il completamento del lavoro dell'Aurelia Bissi, io ci tenevo molto avendo avuto in questi anni il problema della gestione del cantiere, ad essere il singolo che inaugurava l'opera, invece credo che sarà uno dei primi atti del sindaco che mi succederà. Quindi più che cose non realizzate rispetto al programma ha tempi più lunghi rispetto a quello che si pensava e un differimento della realizzazione di alcuni progetti importanti.